Ciao, sono Cristiano, vi parlo da Marina di Ravenna, precisamente dal bagno Ondina. Il bagno è stato realizzato l'anno scorso da me e mia moglie, Masha, e abbiamo pensato di fare una cosa un po' nuova e abbiamo realizzato un bagno completamente green. Il bagno è stato realizzato al di sopra di una duna già esistente, una duna alta 1,20 m dal terreno e abbiamo lasciato totalmente intoccato quello che era il verde e ci siamo inseriti senza disturbare troppo quello che era la natura. All'interno del nostro ristorante abbiamo circa 150 posti a sedere e un centinaio di ombrelloni nella parte antistante al mare. E cosa dire, vi aspettiamo, speriamo in una bella estate. Ciao a tutti! Ciao a tutti!